E vorrei dare la parola alla nostra band, Detector, perché il leader della band ha scritto un brano molto molto bello e anche appunto parlando di messaggi importanti del caso di Bibbiano. Ascoltiamolo da te, io farei un grande applauso ai nostri amici Detector, ascoltiamoci questo brano e poi una piccola pubblicità, torniamo subito. Rimanete con noi ragazzi, ma ascoltiamo questo brano meraviglioso. Diecimila anime passeggiano in città e a due passi da una via c'è qualcuno che piangerà. Solite giornate che si ripetono così dietro l'angolo di casa. C'è un bambino che non tornerà, merito di quei fenomeni senza pietà, a tratti da interessi, loschi e da vività. Ed intanto il tempo scorre e nessuno sa mai cosa accadrà, né se ritorneranno ancora. Ma cosa ci riserva ancora la storia dell'umanità? Mille studi e progressi fatti per trovarsi in questa società. Mille studi e progressi fatti per trovarsi in questa società. Storie incredibili da non crederci perché si presentano alla porta e poi tutto cambierà. E ti sembra strano che sia successo proprio a te, ma non riesci a darti pace finché qualcosa non cambierà. Mille studi e progressi fatti per trovarsi in questa società. Mille studi e progressi fatti per trovarsi in questa società. Mille studi e progressi fatti per trovarsi in questa società. Mille studi e progressi fatti per trovarsi in questa società. che non va